Cari telespettatori, grazie come sempre della vostra attenzione. Oggi tratteremo a fatti e commenti, potremmo definirlo cultura e poesia, di un nuovo libro che è una raccolta di poetiche, di poesie, che Vincenzo Cherubini ha dedicato al dialetto ortano. È una bella raccolta, ce la illustrerà lui stesso, Zoni, Canti e Zompi, Lappe e Orte, speriamo di averla detta nel miglior modo. Oltre a Vincenzo Cherubini abbiamo con noi anche Vladimir Marcoccio, che è cultore di storia ortana e che ci aiuterà insieme a Vincenzo a ricostruire quella che è appunto la genesi, la finalità di questo testo. Ecco, io oltre che dire di riferire appunto della presentazione di Anna Maria Mazzoni, della prefazione del vice sindaco di Orte Francesco Galli e soprattutto delle note sul dialetto ortano e il glossario a cura del professor Luigi Cimarra, ecco vorrei subito chiedere a Vincenzo Cherubini, questo è il secondo testo che dai alle stampe sul dialetto ortano ed è un lavoro organico, un lavoro che oltre ad esprimere tanti sentimenti in dialetto, appunto lo vedremo in vernacolo ortano, soprattutto dà la storia, dà la caratterizzazione delle tradizioni appunto che non sono, lo dicevamo proprio poco fa, non sono scomparse ma che questo testo ridà in modo simpatico, in modo direi molto vivo al lettore, a coloro che si accosteranno a questo testo. Ecco, quali sono Vincenzo le caratteristiche fondamentali di questo testo? Ok, grazie e buonasera a tutti. Dunque, io diciamo in qualche modo questo testo parte principalmente da un servizio che aveva fatto Passolini nel 1974, mi ha colpito un particolare, cioè una frase in modo particolare sulla quale poi ho basato in qualche modo questo secondo libro di poesie. La frase era questa, chiunque con cui tu parli è immediatamente d'accordo con te nel voler difendere un'opera d'arte d'autore, un monumento, una chiesa, la facciata di una chiesa, un campanile, un rudere, il cui valore storico ormai è assodato, ma nessuno si rende conto che invece quello che è da difendere è questo anonimo, questo passato anonimo, questo passato senza nome, questo passato popolare. La domanda che in qualche modo mi sono fatto io era quello che sicuramente alcuni aspetti della storia di Orte sono già in qualche modo o stanno in fase di salvaguardazione, quindi ci sono già, sono attivi, ma l'anonimo, c'è il passato popolare, può correre il rischio di sfuggire. Quindi il libro è come l'altro una raccolta di poesie, come struttura apre uno strambotto popolare ortano e chiude una tiritera. All'interno ci sono una serie di poesie, però gli stimoli principali, gli aspetti centrali potrebbero essere definiti in tre punti. Primo, ho preso un po' questo stimolo, il primo stimolo è la considerazione della gente semplice. Alcuni personaggi di Orte, qualcuno per esempio che era già citato dal libro che sono riuscito a ottenere grazie a Marcoccio, a Vladimir Marcoccio, che è molto interessato alla parte storica, in particolare sull'isoladoro di Amleto di Marcantonio. Alcuni personaggi sono anche lì, ma altri per esempio sono anche gente che io mi ricordo che in qualche modo quando nella mia infanzia erano presenti, possiamo dire Giubileo, per esempio Emilio, il titolare del bar Colonna attualmente, Barberano che faceva, che ci aveva all'osteria, possiamo dire Panocco, che non se lo ricorda, Comparello, Vicchiottino, mio padre, Tizio, Lola, la Fruttarola, che stava a Piazza Sant'Agostino, ma anche gli Scopini, per esempio Angelo e Nevio Fuselli, quindi un sacco di personaggi che hanno fatto storia, che non saranno mai scritti in nessun libro, per esempio anche un'altra persona che è scomparsa da poco, Sbiffe, che veniva chiamato Sbiffe, che è Carlo Cotini, che si è molto dedicato per esempio all'aspetto sindacale, ma sempre sottominato in qualche modo, quindi ridare un po' in qualche modo importanza proprio a questo passato anonimo, questo passato che corre il rischio di sfuggire. Mi sono avvalso anche in qualche modo dell'aiuto importante, secondo me, che mi ha dato Vladimiro, perché oltre alla generosità e alle disponibilità, devo dire pure una cosa, che quando uno chiede qualcosa a lui, sembra che in qualche modo invece di stare a chiedere gli fa un piacere o gli dona qualche cosa a lui, insomma per dire anche la disponibilità e anche l'acutezza di indirizzarti bene su alcuni punti, questo lo potresti trovare o questo ce l'ho o questo è meglio vedere qui, vederlo in quel contesto? Io quando vieni e mi chiedi, io sui miei siti ho scritto chiedi e ti sarà dato, come disse che è stato scritto. Per me la storia ortana è tutto, io ho 13 anni che sto in pensione e mi sono dedicato effettivamente alla storia, per quello che il mio livello culturale mi dedico, tutto il tempo libero va per la storia. domandava, io di fatti sono rimasto sorpreso, sulle note del libro ci stanno tante di quelle note interessanti, almeno per me, perché è la storia di Orte, la fornace, la terizzi, le varie aperture, le usure, le esatture. Ci stanno tanti di quei dati che io glielo avevo detto a Vincenzo così e invece me li ritrovo, quindi è interessantissimo, legge sia la poesia che poi pure le date storici di Orte. Sì, è stato un po' una guida in qualche modo e un indicatore rispetto ad alcune cose preziosissimo, questo ecco ci teneva a sottolinearlo. Quindi una parte è un po' sui personaggi dicevamo, un'altra parte invece è un po' tocca più l'area della tradizione popolare ortana. Sembrerebbe scomparsa, sembrerebbe per qualche aspetto cancellata, invece questo testo riesce a ridare vita a molte, ecco ci puoi dare delle indicazioni anche che portino poi il lettore ad avvicinarsi al testo? Dunque io nel testo, a parte la parte dialettale che poi ne parleremo, che è grazie a Cimarra che è stata in qualche modo sostenuta, salvaguardata, secondo me in modo, voglio dire lui è un dialettologo quindi, ma ci sono alcune cose che io mi ricordavo vagamente, dopodiché sono andato da mia madre che ha quasi 90 anni ormai, ma anche da altri anziani, i quali mi hanno poi riconfermato alcune cose che pensavo che a Orte, dico, boh mi sembra, ma non sono molto sicuro che c'è, tipo facciamo un esempio per tutti, l'orloggio di San Pasquale. Allora mi ricordo che da bambino se ne parlava, diceva ah, quella ha sentito l'orloggio di San Pasquale. Io l'ho richiesta a mia madre, mi ha detto sì, è vero che esisteva l'orloggio di San Pasquale e mi ha spiegato che cos'era. Poi ho sentito anche altri ortani, una di queste, un'altra persona che me l'ha detto per esempio ma me l'hanno detto diversa, che mi ricordo è Gilda Filesi, l'ex maestra che ha aperto il laboratorio anche molto interessante sotto il profilo delle tradizioni popolari ortane, lei dice sì, e non solo, ma si chiamava a Orte l'orloggetto, quindi in qualche modo si è ricostruito un pezzo che fra trent'anni nessuno sapeva se a Orte c'era o non c'era, quindi è molto secondo me prezioso, importante fermare questi aspetti. Questo è uno, l'orloggio di San Pasquale ormai possiamo dire pure che cos'è, era un ticchettio che si sentiva all'interno degli armadi, un ticchettio che si sentiva negli armadi o nei muri e era attribuibile, secondo la credenza popolare, a San Pasquale di Bailon che con la mazza batteva e preannunciava in quella famiglia l'ipotesi di una disgrazia o addirittura della morte di un componente, quindi raccomandava di mettersi in grazia di Dio. Poi è stato scoperto che è una tarma che si trova all'interno dei mobili, delle travi o degli armadi e che addirittura quel battito è un richiamo sessuale, quindi per esempio questo, ecco, possiamo dire l'olio ferrato, qualcuno lo sa che ancora lo usa, lo usa l'olio ferrato, ma il ballo del chiamo per esempio un'altra caratteristica, mi diceva mia madre che fino agli anni 50 c'era, quindi diciamo questo è il secondo punto. All'interno di questo, cioè di alcuni aspetti della tradizione popolare, anche alcune espressioni, alcune espressioni che dico ma si dicevano a Orte, allora mi sono andato un po' a informare con gli anziani, in parte ecco una grossa fonte è stata mia madre ovviamente, che grazie a Dio insomma è ancora molto lucida, per esempio il termine è cascato da banchetto, poi si ritrova anche nei paesi vicini, però c'era anche a Orte, fuori l'occhi della sposa, è cascata dalle scale, tutte espressioni che hanno un grosso significato. Bene, ecco, io vorrei adesso un pochino mettere in evidenza l'opera del professor Luigi Cimarra, sicuramente ecco il lettore si renderà conto della suggestione che anche il dialetto riesce a dare della trasmissione di valori, di sentimenti, di storia che la poesia può dare, ma molto importante e direi esigentissimo, come semplici racconti, è stato il lavoro del professor Luigi Cimarra, e ce ne vuoi parlare ecco, soprattutto anche questo rapporto che hai avuto ormai, ecco è il secondo volume appunto che il professore cura dal punto di vista ecco proprio lessicale. Dunque, io lo ringrazio tantissimo perché sinceramente ha fatto tantissimo, non tanto e non solo per me, ma per Orte, nel senso che ha oggettivato in qualche modo alcuni termini o alcune cose, io non sapevo dove mettere mani, io ho una conoscenza diciamo modesta del dialetto, quindi uno si doveva in qualche modo avvalere di una professionalità specifica e che in qualche modo potesse garantire alcuni aspetti. Si è offerto anche, per questo lo ringrazio ulteriormente, di fare l'editor, quindi non si poteva mettere qualche cosa che lui in qualche modo non la passasse nettamente al vaglio, cioè proprio capello per capello, quindi esempio le note a pie pagina quando erano un pochettino più pesanti o erano maggiori mi diceva dove e come tagliare, quindi diciamo in qualche modo ha seguito passo passo tutta l'evoluzione del libro e dando anche delle connotazioni secondo me oggettive da un punto di vista letterario. Ma non è soltanto questo che ha fatto, nella parte finale, ecco perché ci sono note sul dialetto ortano del professor Cimarra, è molto importante secondo me una ricostruzione in qualche modo significativa, perché? Perché lui fa una citazione che io non conoscevo ovviamente, fa una citazione di uno studio del 1958-59 in cui un illustro dialettologo dice che a Orte la lingua subisce un declassamento notevole perché il peggio della corrente laziale romanesca viene ad agire su un'area già di per sé stessa molto tormentata. Questo è uno studio di Melillo che risale appunto al 1958-59. Non è soltanto questo che ha fatto, ha ripreso questo, ma ha fatto anche una ricostruzione in qualche modo del dialetto ortano, rispetto ovviamente ai termini e alle espressioni che ci sono. Certo che il dialetto sappiamo che non è qualcosa di statico, di standard, di stabilito per cui rimane fermo. Il dialetto si evolve continuamente, poi noi che stiamo, come dicevamo già in precedenza, anche grazie a te poi i solleciti tuoi sono stati preziosissimi, rispetto a questo, trovandosi Orte in un confine fra appunto Lazio e Umbria, riceve notevoli solleciti, quindi è chiaro che alcuni termini entrano come escono in qualche modo dai confini. Quindi ha fatto il vocalismo, tutto l'aspetto del vocalismo, il consonantismo, cioè come vengono messe per esempio le consonanti, ha fatto addirittura 27 punti significativi del consonantismo, tutti i fenomeni generali dell'aspetto dialettale e soprattutto poi ha parlato anche della morfosintassi del dialetto ortano. Quindi secondo me è un'opera, la sua, molto preziosa. Io mi sono diciamo in qualche modo addoperato a cercare di far entrare nel libro e di trovare più termini possibili. I riferimenti quali sono stati? Ovviamente il primo è stato quello del 2003 di Giulio Nasetti che è proprio appunto un glossario che alcuni termini c'erano ma altri in qualche modo sono stati non cambiati ma visti e scritti come effettivamente si dovevano scrivere. Un altro punto importante, secondo me molto, diciamo così, in riferimento a questo è quindi un po' questo aspetto della morfosintassi che dicevamo, dove ho attinto? Ecco, ho attinto lì da Nasetti e poi da alcuni scritti inediti di Rondelfo e poi sentendo un po' alcune cose dicendo ma questo io me lo ricordo, tu te lo ricordi, soprattutto anche agli anziani. Ecco, questo è un po' mettere dentro più termini possibili per dare i termini che sono nel glossario e che si discostano in qualche modo dalla lingua nazionale sono 1400. Chiaro che c'è compreso pure famiglia o coniglio, però sono 1400 i termini. Molto ampi. Ecco, io già ricorderei fin da ora che appunto la raccolta di poesie verrà presentata domenica 9 giugno alle ore 17 presso il centro di aggregazione sociale di Orte Scalo. Quindi ecco già questo è un invito che noi facciamo. Ecco, una domanda diciamo che viene anche naturale e spontanea. Come si compongono dei versi in dialetto? Vale a dire, si parte subito, cioè parti direttamente con dei termini diciamo originali, dialettali, oppure c'è un'elaborazione prima diciamo nella nostra lingua corrente e poi ci si riporta? O è una cosa diciamo di ispirazionista? Questo è proprio un aspetto profondo che stai dicendo. Molto molto. Ecco. Dunque, indubbiamente qui è bene dire che io non sono un poeta, preferisco chiamarmi un, come si dice, un cercatore di parole ortane, un cercatore di parole ortane, un frate cercatore di parole ortane, perché insomma però la composizione in qualche modo inizia con l'aspetto dialettale, quindi il pensiero viene in dialetto. Poi è chiaro che nel momento in cui la scrivi non la scrivi correttamente, quindi bisogna rifare la traduzione in italiano anche per gli articoli, per i verbi eccetera. Dopodiché fatta la traduzione in italiano rivai un'altra volta sulla parte diciamo in qualche modo dialettale e la ricostruisci. È chiaro che anche lì poi c'è bisogno, almeno nel caso mio, c'è stato un forte bisogno di vedere, di avere a che fare con un punto di riferimento diciamo importante che appunto il professor Cimarra, il quale dice beh questo non si può dire. Per esempio una cosa che avevo messo in una poesia ha detto questo lo puoi mettere ma è in qualche modo poco integrabile o poco pertinente ai concetti che sta dicendo, il termine me lo ricordo ancora, era lusco e brusco che indica appunto il tramonto, l'imbrunire, il crepuscolo eccetera. Era messo in un contesto in cui in qualche modo era decontestualizzato, ecco. Quindi me l'ha ridefinito, dice questo metteci imbrunire, metteci tramontà, metteci quello che ti pare ma questo lì non ce lo puoi mettere. Come per esempio alcuni termini tipo uno stessi col sta accallanza, accallanza siamo stati credo un due o tre settimane, è stato a vedere bene che cosa significa perché molti termini ortani come tutti gli aspetti dialettali, un termine indica più cose, non ne indica una. Un altro potrebbe essere, l'accallanza indica stare in ansia, stare in trepidazione, stare in attesa, stare in aspettativa sugli altri, c'è più cose, quindi bisogna vedere anche bene il contesto in cui sta. Come quando è che sì, quando è che sì che un termine significa, che significa quando è che sì, significa quando è il momento, quando è giusto farlo, quando è il momento opportuno, quando è proprio si deve fare, quindi va anche in qualche modo contestualizzato questo. Una grande graduazione. Ecco, un'ultima domanda, c'è una poesia, un componimento, anche una ricerca particolare che ti ha dato una soddisfazione, una sensazione di grande soddisfazione e euforia e soprattutto ti ha gratificato dal punto di vista sia umano che anche letterario. Posso leggere se vuoi? Lola la fruttarola, che è un po' un combinare l'aspetto, diciamo, dialettale, ma anche il calore, per esempio, ancora che in qualche modo si sentiva emotivamente ripensando. Era una fruttarola, Lola, che è un ivocoristico di Leonilde Barbacci, nata nel 1906 e morta nel 93, che insieme al marito Alfredo Feviozzi gestì negli anni 60-70 del secolo scorso un negozio di frutta e verdura in piazza del Perviscito, cioè a piazza Sant'Agostino. Questa mi ha dato molto perché in qualche modo sono messi insieme i termini, le espressioni, i modi di dire, ma anche in qualche modo che la sentivo ancora appartenente a me, proprio appartenente alla mia infanzia. Quindi mi sono proprio identificato con lei, cioè immaginato che io per un attimo fossi Lola la fruttarola e che cosa facevo. Quindi parlo da Lola la fruttarola. Sti belli meregnani, non so pe niente cari, ce lo so che i sordi nulli cagono i somari, non so pe niente fermicci, costano solo due sordi spicci, e ste bricocole coste persi, che non so, mannate, è la meglio frutta che ci ho avuto di tutte le state. Costerà panelle, il cazzo imperio ce lo potete fa, è più meglio della carne, ve lo posso proprio sicurà. «Te servono i fallacciani? Vengono fra un pochetto, li dovrebbe portare il contadino col carretto. E certo che ci avemo fra un po' pure le mosciarelle, so più meglio dell'anno scorso, so un po' più belle. Non ci annassi a pialli da un'altra parte i fiori di zucca, li vado a pialli ma a buon'ora, se no il sole ma a lucca. Estoli, zellero, quale ho te ce metto dentro la sporta? Te ce metto pure due ova, me li paghi la prossima volta. Ci ho messo anche in ciglio d'aglio, in po' d'erbetta. Non c'è prescia, paghi di ma, senza nessuna fretta». Questo è un po' come me la… Veramente direi che l'elemento evocativo è quasi essenziale in questo, cioè si riesce, sei riuscito, posso dirlo proprio a attualizzare in modo diretto… Forse un po' troppo, però vabbè, ti ringrazio. Un grande evento, io direi proprio evocativo, vale a dire si ritorna tutto sommato a una vita che è stata… Di 40 anni fa, buoni, 50 quasi, 45. E ciò che può evocare, ecco, e in questo la tua citazione di Pierpaolo Pasolini direi che è pregnante in modo perfetto, cioè si rievoca veramente un brano di vita essenziale. Un passato che conviene non dimenticarsi, no? Esattamente. Perché in qualche modo più abbiamo chiarezza, secondo me, questo lo posso dire un po' come psicologo, più abbiamo chiarezza della nostra identità, della nostra provenienza e più siamo non solo tolleranti, ma anche ben integrati con gli altri e soprattutto in questa fase, in questo periodo, anche con l'immigrazione che potrebbe essere vista come un arricchimento per noi, soprattutto per noi, non solo per loro, ma soprattutto per noi. Esattamente. Ecco, questo mi sembra il messaggio principale, il messaggio fondamentale che possiamo fornire. Ecco, io di nuovo ringrazio Vladimino Marcoccio, ringrazio Vincenzo Cherubini e rinnovo l'invito. Vedrete che vale veramente la pena. Due inviti vorrei fare. Il primo è soprattutto che questo testo sia letto nelle nostre scuole. Nelle scuole so che ci sono dei promotori, è lo stesso Vladimino Marcoccio e credo anche senza problemi Vincenzo possa farlo senza problemi. Ecco, di divulgare questo testo nelle nostre scuole e vi ricordo domenica 9 giugno alle ore 17 presso il centro di aggregazione sociale di Ortescalo ci sarà la presentazione. Dove tu farai poi il coordinatore della presentazione e in qualche modo il moderatore. Come no? Ti ringrazio. Bene, ti ringrazio, ringrazio te io. Grazie ancora e grazie a tutti i telespettatori. Buonasera. Grazie a tutti i telespettatori.